Isernia nei prossimi anni cambierà volto, soprattutto l'Isernia centrale, quella del passeggio, nell'area della stazione ferroviaria, che diventerà per la città Pentra una sorta di Central Park New Yorkese. Ce ne riferisce il sindaco di Isernia, Luigi Brasillo. È un progetto che questa amministrazione fortemente ha voluto, ha caldeggiato e finalmente vede la luce. È un progetto di stravolgimento proprio della città di Isernia. La realizzazione di un parco urbano verde al centro della città, in un'area degradata, inquinata, stiamo parlando di oltre 20.000 metri quadrati, credo rappresenti per la città un evento epocale. Mai si era pensato di fare una cosa del genere. Tra l'altro ricongiungendo anche le due parti della città. Questo secondo me diventa veramente fondamentale. Finalmente, dopo un po' di tempo, sono iniziati i lavori. Questi lavori dureranno, per quanto riguarda la bonifica, fino a settembre. A settembre avremo tutto il suolo bonificato e pronto all'utilizzo e cominceremo i lavori del parco. Naturalmente il progetto, che è stato già preparato dall'amministrazione, sarà nei prossimi giorni anche presentato alla cittadinanza. Perché è giusto che anche i cittadini sappino che cosa vogliamo fare e soprattutto, se vogliono intervenire, ben venga anche l'intervento dei cittadini. Un progetto importante, un progetto che vede impegnati oltre 4 milioni di euro e, insomma, è una questione che vede interessata tutta la città. Qui ci sono una parte di binari che sono stati tolti per consentire l'opera di bonifica. Una parte di questi binari saranno rimessi al loro posto perché, tra l'altro, il Parco Urbano Verde sarà un parco tematico a tema delle ferrovie dello Stato perché lì è presente un ponte girevole importante. Ferrovie ci ha promesso anche la donazione di una locomotiva storica che potremmo mettere in quel posto, quindi sarà un parco tematico. Quindi alcuni di questi binari, quelli più vecchi, verranno ripristinati al loro posto insieme a una pavimentazione molto bella. Come sarà utilizzata l'Officina della Cultura? L'Officina della Cultura, voi sapete che lì era presente un'associazione, le Rotarie, che aveva un importante museo a tema. Li abbiamo dovuti far togliere nella fase di realizzazione dei lavori, ma ovviamente loro torneranno in quel sito perché, essendo un parco tematico a tema, credo che un museo della ferrovia sia un fatto importante. Tra l'altro per una tratta, che è quella di Sernia sul Mona, tratta storica transiberiana in Italia, che diventa importante per il turismo di questa città. Quindi sicuramente questa associazione tornerà in quel sito.